Un protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo ed Amazon, il più famoso portale e-commerce che prevede la realizzazione di attività di supporto alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese, oltre alla promozione dei prodotti dell'Abruzzo. Da un lato le nuove modalità di commercio, dall'altro la tutela del piccolo commercio e dell'artigianato. Sì, cerchiamo di conciliare nuove modalità di commercio basate fortemente sull'online, sulla consegna a domicilio e sulla concentrazione dei grandi gruppi con la tutela del piccolo commercio e dell'artigianato ai quali cerchiamo di mettere a disposizione attraverso questo protocollo con Amazon la vetrina che una grande piattaforma internazionale può offrire e che a quel punto diventa paradossalmente l'occasione di rilancio del piccolo commercio e delle produzioni artigianali, delle piccole produzioni perché invece di essere conosciute soltanto nel ristretto circondario di vicinato hanno l'occasione di aprirsi a una platea e a un pubblico nazionale e internazionale. Saranno attività sia online, quindi di webinar, sia dei bootcamp di due giorni, quindi intensivi, dei mini master dedicati all'internazionalizzazione e alla digitalizzazione. L'80% dei contenuti di questi corsi in realtà parla di marketplace in generale, di commerce e non di Amazon proprio perché poi l'azienda deve essere libera di poter scegliere qual è il canale di vendita che è meglio per le sue attività. Tra pochi giorni ci sarà l'apertura dello stabilimento di San Salvo che prevede in tre anni l'impiego di circa mille persone. Siamo sicuramente ad una svolta epocale in quella che è l'economia di quel territorio ma oserei dire anche della regione Abruzzo, essendo lo stabilimento di Amazon il più grande del centro-sud. Cominciamo a avvolgere lo sguardo verso la logistica che è la nuova frontiera dell'economia del nuovo millennio.